Presentato dal GAL Terreverdi, Terramane l'avviso pubblico incubatore diffuso per favorire lo sviluppo delle filiere corte e dei distretti rurali di qualità. Un'importante azione volta a sostenere lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso il supporto all'avviamento di nuove piccole imprese mediante il sostegno alla creazione di start-up e di imprese agricole. È un punto d'arrivo di un percorso che non è altro che una fase intermedia. Noi qui vogliamo, ci auspichiamo che arrivino con questo bando molte iniziative, molti progetti che qualificano tutta l'area. L'obiettivo è ovviamente, poi i risultati arriveranno con il tempo. Speriamo e confidiamo che le azioni che abbiamo fatto siano state di esempio per le imprese, per far sì che si creino strutture aggregate, che siano un riferimento per tutto il territorio e magari non solo per il territorio del GAL Terreverdi. Il GAL Terreverdi-Terramane con questo avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti in attuazione del sottointervento previsto dal Piano di Sviluppo Locale 2014-2022 approvato dalla Regione Abruzzo. Il bando che viene presentato questa mattina ad oggetto argomenti ed interventi molto rilevanti anche per la programmazione 23-27, dalla necessità di implementare le filiere corte, quindi avvicinare per esempio il consumatore al produttore e viceversa, così come implementare l'economia circolare e rendere territori più attrattivi dal punto di vista turistico proprio per lo sviluppo delle aree rurali del nostro territorio e in generale per dare attuazione in modo concreto alle strategie di sviluppo locale di questo GAL, che in questo senso è molto performante. Parliamo ora del valore di questo bando. Sicuramente non solo perché è il primo di attuazione delle attività a regia dei GAL, ma soprattutto perché ha avviato anche un percorso nuovo di lavoro tra il GAL e la Regione Abruzzo e il Dipartimento Agricoltura. Abbiamo infatti, d'accordo con l'assessorato istituito, la cabina di regia tra i GAL, abbiamo attivato dei gruppi di lavoro all'interno del servizio simultaneo che riguarda le diverse fasi della procedura e le diverse competenze per accelerare il risultato di questi bandi e quindi l'investimento sul territorio e il risultato importante che i GAL devono fare per lo sviluppo locale. Grazie. Grazie.